giunone affida io trasformata in giovenca da giove per proteggerla dalla gelosia della sua sposa ad argo dai cento occhi giove ordina poi a mercurio di liberare io dalla custodia di argo e mercurio uccide il gigante giunone allora mette i cento occhi di argo sulla coda del pavone a lei sacro il dipinto di amigoni pittore di successo di ritratti e scene storiche rappresenta giunone mentre riceve la testa di argo la morbidezza lo stile sensuale i colori luminosi e le linee aggraziate del dipinto sono caratteristiche del rococò come molti artisti di quel periodo amigoni operò in tutta europa e specialmente in inghilterra dove esegui lavori per il coven garder e moore parco